Con la presa dato delle dimissioni del commissario straordinario della U Giovanni Maria Soro, l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari dal 1 luglio ha deliberato che sarà sostituito in via temporanea e fino alla nomina del nuovo direttore generale da parte della regione dal direttore amministrativo Antonio Lorenzo Spano. È stato confermato direttore sanitario Bruno Contu, mentre le funzioni da direttore amministrativo verranno svolte da Rosa Maria Bellu. Giovanni Maria Soro, originario di Sassari, era stato nominato in piena emergenza Covid quando in città si erano sviluppati alcuni focolai di coronavirus, in particolare nel reparto di cardiologia del Santissima Annunziata, che avevano destato non poche preoccupazioni. Ora, in fase di ripartenza, quei tempi sembrano lontani, ma nei giorni scorsi si sono avuti due casi in una RSA, la residenza per l'anziano in San Nicola in via Piandanna, dove sono risultati positivi due pazienti e per questo motivo sono stati sottoposti a tampone oltre un centinaio di persone tra personale e ospiti. Sarebbe risultato positivo un dipendente. Altri test saranno eseguiti nei prossimi giorni per arginare la possibilità che si sviluppi un nuovo focolaio nel Sassarese e in particolare in una RSA.